Segnano ad alzare il pressing, vediamo, ottima la imbesi ma un po' di ritardo della Mirafiore Vediamo cosa deciderà Mr. Carnuccio, siamo sotto di un gol Fragola, fa una finta, rientra sulla destra, in mezzo a due versarie, attenzione sandwich, sandwich, fallo fuori area, sandwich sulla imbesi Abbiamo visto due sandwich, la prima è passata, ma il secondo ci hanno messo giù, resta a terra, calcio di punizione per la Royal Team Sulla palla la Mirafiore, parte la botta, rete! Abbiamo pareggiato, finalmente, è arrivato il pareggio in questa partita difficilissima Mirafiore pareggio sul calcio di punizione, sinistro che ha penetrato la barriera Inci dalla calma, Latinelli ha la sua fucuda, attenzione, pressimo delle imbesi, la mezza è scatenata adesso Alzi, si ripresa